Il tavolo diventa un tavolo unico centrale, molto importante, ha la possibilità di fare un collegamento in teleconferenza con tutto il mondo, abbiamo la fibra ottica che arriva direttamente sul tavolo dei nomi, non abbiamo un proiettore ma perché ci sono due schermi e le cd che sono molto più comodi per questo tipo di vino. Quindi viene usato il forno, non viene usato a basse temperature, non viene usato sotto vuoto, non viene usato... no, no, ci vuole... perché sono nato come cuoco comunque con le padelle, quindi il tempo le abbiamo dato 5 ore e mezza. Questa è una liberazione? Sì, quello sì, solo di forno, poi la preparazione prima è stato scortato intorno ai 160 gradi. No, no, è però un bello coperto, l'avete piano, quindi 140, 160 gradi. Forse non era fatto così, quindi... Bassa temperatura sotto vuoto io mi sono... No, ma per ogni cosa, per la carità ci sono delle cose... Cioè, come ogni strumento va utilizzato se serve o se è il caso di utilizzarlo, o se la composizione, la struttura e la testura del piatto serve una consistenza determinata. L'abuso non va mai bene, come in tutte le cose. E alcune cose, anche quando... anche in ristoranti molto importanti, è chiaro che uno magari mangia delle carni perfette, utilizzando le basse temperature, però ogni tanto, cioè se prendo un filetto di capriolo e riesco ad adattere, ugualmente perfetto di cottura, di rosa, e riesco a farlo magari una pentola, una pedale in ferro, un po' di forno, due robe... è un'altra cosa, insomma. Ah, adesso...